Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Prima di immergerci nella storia che abbiamo preparato per voi oggi, vi invitiamo a premere il tasto iscriviti e a lasciare un mi piace per rimanere sempre aggiornati sulle prossime notizie. Grazie per il vostro supporto. Oggi parleremo di una figura emblematica del giornalismo italiano, Lamberto Sposini. Molti di voi lo ricorderanno come un giornalista di successo, stimato e apprezzato per il suo lavoro. Tuttavia, c'è un evento tragico che ha segnato profondamente la sua vita e la sua carriera, trasformandola irrimediabilmente. Riflettiamo per un momento su come la vita può cambiare in un istante. Il 29 aprile 2011, Sposini è stato colpito da una tragica svolta, un'emorragia cerebrale che ha interrotto la sua brillante carriera in maniera improvvisa e drastica. Da quel giorno, il destino di Lamberto Sposini ha preso una direzione completamente diversa, un percorso segnato da difficoltà e sfide. Nonostante i medici siano riusciti a salvarlo, le conseguenze dell'emorragia hanno lasciato segni indelebili. Sposini, da allora, non è stato più in grado di parlare e la sua vita professionale è stata interrotta senza possibilità di ritorno. Questo incidente ha rappresentato una svolta drammatica, non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita personale. Ma c'è un lato della storia di Sposini che spesso non viene raccontato. Il ruolo cruciale della sua famiglia. La figlia Matilde, avuta dalla relazione con Sabina Donadio, è diventata il fulcro della sua vita. È grazie all'amorevole assistenza di Matilde che Sposini riesce a continuare a vivere, nonostante le sue condizioni suscitino un profondo senso di pietà. Sabina Donadio, compagna fedele di Sposini, è stata un pilastro fondamentale nel suo percorso. È lei a gestire le relazioni pubbliche per lui, a seguito della perdita della sua capacità di parlare. Oggi, Sposini comunica principalmente attraverso lo sguardo, un mezzo silenzioso ma espressivo per chi sa interpretarlo. Il mondo del giornalismo italiano, purtroppo, sembra aver dimenticato la figura di Lamberto Sposini. Il suo incidente rappresenta una pagina triste e trascurata, un episodio che non ha ricevuto la solidarietà e la compassione che meriterebbe. Non ha più amici e la sua vita è distrutta, tant'è che la stessa Sabina ha affermato, sono trascorsi 12 anni dall'emorragia celebrale e purtroppo oggi Lamberto è un'altra persona, ma con la vicinanza fisica dei colleghi sarebbe sicuramente diverso e ancora vivo Sposini. Ma per la TV è come se non ci fosse più. Una pagina da dimenticare per il mondo del giornalismo italiano, che in questo caso non sembra mostrare alcun segno di solidarietà e compassione per una persona, che ha scritto delle pagine importanti per l'intero movimento. Sposini, un tempo un nome influente nel panorama giornalistico, oggi vive in una realtà profondamente cambiata. Ma la storia di Sposini è più di una semplice cronaca di un tragico incidente. È una storia di resilienza, di amore familiare e di lotta continua. Nonostante le sfide, la sua famiglia rimane al suo fianco, sostenendolo in ogni momento. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi? Questa storia vi ha toccato in qualche modo? Credete che il mondo del giornalismo dovrebbe mostrare più solidarietà verso figure come Lamberto Sposini? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su altre storie come questa. Grazie per averci seguito. A presto.